Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Fiamo e mi occupo di base in account della business unit romana di Bartek. Vi presentiamo oggi un interessante use case insieme al cliente Notatel S.P.A. sperando di raccontarvi un'esperienza interessante. Il rapporto tra Bartek e Notatel è nascita molto lontano. Bartek non si chiamava ancora Bartek, ci chiamavano Babel. Notatel è un'azienda che ancora aveva un solo datacenter e oggi mi attrevo. Chi è Bartek? Notatel SV a molte persone che ci conoscono e per chi non ci conosce questo video rappresenta un po' la nostra natura e questa immagine condensa un po' quello che facciamo, siamo un gruppo di oltre 200 professionisti con competenze, prodotti e soluzioni in diverse aree di intervento tecnologico, come appunto la sicurezza, area nella quale scopriamo questo tipo di attività, ci occupiamo di consulenza normativa, ci occupiamo di formazione specialistica, ci occupiamo appunto dell'integrazione di tecnologie per la privacy compliance come è il caso di oggi e ci occupiamo di progettazione di soluzioni interamente castellanizzate, come ad esempio la progettazione di certificazioni motoriche piuttosto che il motore di firma della nostra soluzione PEC che è utilizzata da molti dei gestori in Italia. Potete vedere dai nostri clienti che vantiamo una grande presenza nel mondo delle telco, nel mondo del finance, ma anche nel mondo della PIA e collaboriamo con i principali sistemi integrator italiani su importanti progetti. Il caso di Nordertel, l'obiettivo del cliente era molto molto semplice all'apparenza, rispondere alle semplici domande che ci si deve porre in un normale progetto di seguito. Chi ha fatto cosa, dove, come e quando? Una domanda all'apparenza veramente molto banale ma che non sono troppi clienti se la pongo nel modo giusto in cui va analizzata. Spesso quando avviene un problema, si verifica un'intusione, un data breach o un'operazione fra volenta, passiamo tutto il tempo a cercare di capire cosa è successo, dove è entrata la persona, cosa ha fatto, come ha ottenuto la password, su quali sistemi e diventa un indovinati generico. Il caso di oggi voglio illustrare come dover affrontare un progetto di questo tipo e ricordarvi soprattutto che la privacy, la compliance e la security non sono solo una scelta tecnologica, ma un processo che parte da un security by design e che quindi lo strumento tecnologico è solamente la scelta finale a valle di quello che deve essere implementato per ottenere gli obiettivi che ci serve il flusso. Per questo ora chiamo sul palco Stefano Tufoni, responsabile di operation di Notatel che ci rapporterà il punto in vista del cliente spesso. Grazie Riccardo, buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano Tufoni, sono responsabile dell'esercizio di Notatel, lavoro in Notatel dal 2007 e dal 2009 sono appunto il volontario del responsabile dell'esercizio. La mia carriera è qui, inizia nel lontano, nel 1986 e in tutti questi anni ho avuto modo di coprire diversi luoghi, programmatore, sistemista, progettista di redi, progettista di sistemi integrati e altre cose, ma vorrei parlarvi di Notatel e di cosa facciamo. Notatel è una società di proprietà del Consiglio nazionale del notariato e della Casta nazionale del notariato. Nasce nel 1997 con l'obiettivo di realizzare e gestire servizi informatici e telematici per i notari italiani. Abbiamo iniziato con i primi servizi di connettività tramite Modem e oggi tramite la RUM, la rete unitaria del notariato, colleghiamo gli oltre 5.000 studi italiani tramite un portale web dedicato. Il nostro modello operativo è quello di integrare i servizi di studio realizzati da diverse parti con i servizi dell'APA, di altri enti privati e anche con i dettamenti offerti da Notatel. Dal 2002 gestiamo la missione della firma digitale del Smartcard e il servizio di posta elettronica certificata dei notari per il Consiglio nazionale del notariato. Dal 2013 gestiamo la missione di marche temporali e siamo conservatori per il Consiglio nazionale del notariato degli atti informatici dei notari italiani. Siamo accreditati presso APIP come conservatore di atti digitali e dal 2017 siamo anche accreditati presso il Ministero della Giustizia per le vendite telematiche, per le vendite giudiziarie. Possiamo tramite il nostro servizio web. Oltre a questo siamo tutta una serie di servizi anche non normati che vanno da banche dati alla posta elettronica a servizi job offline. E tengo a precisare che tutti questi servizi noi li facciamo in house, sono ospitati presso i nostri centri. In due parole siamo il provider del notariato e in quanto provider ci dobbiamo adeguare a tutta una serie di best practice normative nazionali e internazionali. Abbiamo cominciato dal vecchio codice della privacy che poi è stato integrato dal regolamento del garante, che abbiamo detto quindi sulla tenuta degli log e degli investitori del sistema. Successivamente con l'entrata in vigore dell'Europamente europeo per la produzione dei dati, che hanno girato il GDPR, ci siamo quindi adeguare all'ulteriore norme che oggi sono state integrate nel nuovo codice della privacy. Per poter erogare i servizi di cui ho accennato in precedenza abbiamo conseguito diverse certificazioni, la certificazione di qualità, che sono nel 2015, la certificazione sulla sequenza di informazioni ISO 2017 e chiaramente ci siamo anche certificati adeguamento EIDAS per l'erogazione dei servizi speciali in ambito europeo. Tutto ciò ovviamente impatta fortemente sui vari campi di organizzazione, quindi appunto l'organizzazione per evitare accentuamenti di responsabilità, conflitti di interesse, le classiche situazioni di chi controlla il controllore. Sulla formazione del personale, perché il personale deve essere informato sui rischi e sui comportamenti adeguati da tenere per evitare gli scelti di sicurezza. E per ultimo anche sulle scelte tecnologiche, che devono seguire per forzare la posizione interna, proprio per evitare che possano essere bypassate ricercando un'operatività più snella e più valuta. Le aziende fortunatamente sono fatte di persone, ma in quanto persone sono sensibili a una serie di numerabilità tipica dell'estero umano. non è un caso che ricorre in tutti i risk assessment consigliati dalle best practice o un posto da memoria. Le persone commettono errori, in azienda diciamo che chi non fa uno sbaglia, oppure possono essere vittime inconsapevoli anche di tutti gli identità. Le croniche ricordano anche i casi in cui agiscono per loro. Ma a prescindere dalla natura peorosa o peorosa di un centro di sicurezza, possiamo affermare che comunque le evocazioni rappresentano una minaccia per gli altri. Noi in ODRT riponiamo assoluta fiducia ai nostri collaboratori, ma non possiamo rascurare le statistiche che ci dicono che un'altra incidenza di un centro di sicurezza in tutto il mondo proviene dall'interno dell'organizzazione. si tratta di soggetti che in un modo o nell'altro causano dei danni all'azienda, sfruttando informazioni e un accesso dei viaggiati. Il danno può variare da la rottura di una semplice configurazione alle istituzioni di dati sensibili. Cosa facciamo in ODRTL e cosa abbiamo fatto in ODRTL per prevenire questo tipo di incidenti? Abbiamo iniziato l'attribuzione di cuori e responsabilità nel principio della separazione degli uomini. abbiamo implementato un sistema di gestione centralizzata e sicura delle identità digitali in modo che non vengano utilizzate credenziali di gruppo dagli operatori. Abbiamo creato dei workflow approvativi con cui riusciamo anche a permettere accesso al personale esterno a risorse cliniche. E infine dobbiamo conservare a norme log e le tracce di ODRT secondo le norme dettate dalla privacy in modo che le evidenze siano sempre recuperabili e non punibili. E poi implementare un sistema di monitoraggio dei sistemi in modo da limitare il senso di tale libertà degli operatori. ricordiamo tutti quanti che comunque la sicurezza non parte da scelte tecnologiche ma è un lungo processo che impatta l'organizzazione, la dedizione di responsabilità, i simili processi. la sicurezza sulla tecnologia è soltanto una fase finale che arriva. Non è possibile comprare una scatola o una black box a cui ci affigliamo senza essere nessuno valutato. E poi altro punto molto importante è chiaramente istruire gli operatori, istruire il personale e anche non quello tecnico perché la nostra prima linea di difesa sono i nostri dipendenti che non devono diventare la loro volta, anche inconsapevolmente, un vettore d'attacco ai nostri sistemi. Io ho finito e vi passo la parola e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Stefano. Quello che abbiamo capito fino adesso è che le cose importanti da tenere sotto controllo sono i dati, le attività degli operatori e come le persone accedono ai sistemi e con quale modalità. Quindi i requisiti del progetto espresso da parte di Robert, della prima fase del progetto che abbiamo iniziato circa quattro anni fa, era tracciare tutte le attività che gli operatori compiono sui sistemi. Utilizzare esclusivamente credenziali personali in modo che sia sempre garantita la possibilità di risalire a chi ha fatto una azione. Quindi disaccoppiare totalmente l'identità da quella che è l'utenza eventualmente condivisa o l'utenza amministrativa sui sistemi per evitare il proliferare di utenze condivise e evitare le configurazioni di client, quindi garantire agli utenti la user experience che sono normalmente abituati ad utilizzare. quindi senza l'utilizzo di sistemi ponte e senza la necessità di dover installare degli agent a bordo dei server. Il problema è quindi in tutte le organizzazioni in cui ci è capitato di affrontare progetti simili gestire la pluralità degli utenti che per vari motivi accedono ai sistemi oggetto delle nostre attività di monitoraggio. abbiamo personali IT, abbiamo partner a cui garantiamo l'accesso in VPN sui sistemi di sviluppo, abbiamo i manager, abbiamo utenti WBI, customer care, qualunque tipo di utente che nelle azioni che giornalmente compie sui sistemi va discriminato e va analizzato in modo puntuale proprio per poter prevenire l'eventuale presenza di un attaccante che come ha detto Stefano Pufoni prima è il 30% degli incidenti e che può essere o la superficie di un attaccante esterno che è riuscito in qualche modo a rubare l'identità o eventualmente anche un'azione involontaria o accidentale o un attaccante interno maligno. Dove funziona il CFR? È fondamentalmente un man in the middle che scompone la sessione del protocollo amministrativo vengono supportati tutti i protocolli amministrativi generalmente utilizzati per l'accesso ai sistemi dell'amministrazione scomponendo la sessione in due troncone, quindi simulando di essere il client nei confronti del target e simulando di essere il target nei confronti del client. In questo modo, durante la scomposizione del protocollo, l'apparato può riversare su un trial totalmente cifrato e timestampato tutte le operazioni che sono state compiute dagli operatori indicizzandole con una ricerca indicizzata permettendo la ricerca facilissima di qualunque tipo di operazione quindi si può andare a ricercare chi ha scritto per domando e l'identità viene garantita e si risale esattamente a chi ha compiuto l'operazione per ritornare alle semplici domande che ci sono posti con noi. Non richiede configurazioni come abbiamo detto e una cosa molto importante può prevenire delle azioni malevole e soprattutto permette di fare quello che è lo user mapping, ovvero di impersonificare direttamente dalle credenziali dell'utente l'utenza amministrativa quindi questo è utile quando ci sono dei router, ad esempio in cui ci si collegano dei sistemi legacy in generale dove vogliamo implementare anche ad esempio la strada d'authentication come abbiamo implementato sul client. Questa è stata la prima fase del progetto perché lo user mapping che vi ho spiegato prima è una configurazione statica che prevede la necessità di dover configurare continuamente le polisi e la granularità di chi può accedere, come, dove e per fare quale tipo di operazione quindi ad esempio quali protocolli sono abilitati. Nella seconda fase del progetto che abbiamo da poco intratreso, la P2T superiamo questo problema e abbiamo una gestione dinamica di questo flusso. Quindi la P2T accede alla console dove sono ascensiti tutti i sistemi target o in modo manuale o abilitando l'autodiscopering. inserisce la richiesta per accedere al singolo sistema e anche con che tipo di protocollo. Per i sistemi particolarmente critici, come posso essere databiesco le carte di credito, back-end di posta, questo tipo di accesso può essere autorizzato in modo dinamico da un security manager che può eventualmente autorizzare questo workflow. in sistemi che non sono critici questa cosa può essere tranquillamente automatizzata, lasciando ovviamente sempre attivo il tracciamento. A questo punto l'addetto può, come abbiamo detto prima, semplicemente accedere con il proprio plant, quindi con il proprio putty, con il browser, piuttosto che con una console in RTP, accedere direttamente al sistema target e compiere normalmente le proprie operazioni. E una cosa che magari non l'ho detta prima, ma anche le sistemi grafiche hanno un motore OCR che può indicizzare ogni contenuto testuale che appare sulle finestre video. Un ulteriore vantaggio di questa gestione dinamica che stiamo implementando con questa seconda fase è l'analisi comportamentale. Perché spesso le minacce non sono statiche, ma sono dinamiche, quindi dobbiamo cercare di capire e di spostarci da fare un'analisi delle anomalie. Quindi cercare di capire quali sono gli eventi che non avevamo previsto. Quindi come distinguere ad esempio un accesso che non avevamo previsto, quindi un'attività che si disposta dai comportamenti abituali? L'appliance prevede un modulo specifico di business analytics, di user bio analytics, che può analizzare e costruire una baseline sull'orario in cui generalmente l'utente accede, i sistemi quali accede, i comandi che in genere digita e anche le sue attitudini, quindi il modo in cui digita, piuttosto che i movimenti del mouse. In questo modo si costruisce una baseline attraverso la quale è possibile rilevare delle anomalie e ad esempio questo nel video mostra un accesso avvenuto sia in un orario, vedete nel diagramma in basso dell'orario, un orario compatibile con quello dell'utente che sta collegato, ma il tipo di comandi, i target a cui sta accedendo non sono tipici del proprio comportamento. Quindi cosa è? È un utente che sta lavorando a casa di un amico e sta utilizzando i credenziali del collega o è un furto di identità? In questo caso l'anomalia è immediatamente riscontrata e in una situazione come questa si può o notificare il manager o immediatamente troppare la sessione e poi vedere che si lamenta o magari chiamare il collega per vedere se effettivamente sta facendo quell'operazione e chiedersi il perché di questa anomalia. Questi sono tipici eventi che nella maggior parte dei sistemi statici basterebbero sottotracci. Grazie a tutti, buona continuazione.